Buongiorno, oggi siamo nella veranda fotografica e faremo un po' di scatti agli animali che popolano il bosco appena dietro casa. È uno spettacolo, purtroppo ancora non c'è il sole e oggi sarà difficile perché è previsto nuvolo quasi tutto il giorno. Vediamo un attimo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.